è la volta di due musicisti loro non canteranno credo, vero? Angelo non canterete, vero? no Angela non canta allora, Gino Zucchia accompagnato da Angelo Maresca una da un padre e l'altra da un belino ci vogliamo sentire quattro gravi uno si titola Baglià e dici è giusto? è giusto? Angelo? ah, che maresca, se la scriverei se la senti se la sono baglià l'altra è Marinette Laghe Romy Raposa e Luna Stagliolo applausi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.